Almeno un morto e una trentina di feriti in Thailandia nell'esplosione di due bombe in un hotel a Pattani, località balneare nel sud del paese. Secondo le informazioni fornite dalla polizia, la prima deflagrazione avvenuta in un parcheggio non ha causato vittime, la seconda provocata da un camion a carico di esplosivo all'entrata del Southend Hotel è stata quella fatale.